La geologia è essenziale per l'economia, ad esempio per il reperimento delle risorse naturali, acqua, energia, risorse minerarie e per l'ambiente attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei rischi geologici, lo studio dei cambiamenti climatici e ovviamente la salvaguardia e la valorizzazione del territorio. Nei nostri corsi della Laura Magistrale in Scienze Geologiche cerchiamo di rispondere a delle domande e interrogativi sia che riguardano la dinamica globale, quindi la dinamica della Terra, la dinamica di tutti i pianeti, sia quello che riguarda ad esempio i movimenti delle placche litosferiche che sono poi quelle che portano alla genesi dei terremoti, quindi cerchiamo di capire come si generano i terremoti e le eruzioni vulcaniche. È su queste basi che all'Università di Genova abbiamo progettato la laurea magistrale in Scienze Geologiche, due anni di corso specialistico che si articola in una base di insegnamenti comuni che sono propedeutici a due percorsi formativi, uno sui rischi geologici ambientali e un secondo sulla dinamica terrestre e le georisorse. La didattica prevede lezioni frontali in aula, esercitazioni in laboratorio e anche sul campo e la formazione professionale si completa con un periodo di tirocinio presso enti pubblici, aziende private oppure studi professionali durante il quale gli studenti hanno il modo di entrare realmente in contatto con il mondo del lavoro. Un altro aspetto molto importante è poi l'opportunità che gli studenti hanno di sviluppare parte degli studi all'estero sia grazie ai progetti Erasmus ma anche attraverso le numerose collaborazioni scientifiche dei nostri docenti con istituzioni straniere. Sono Martina Lercari, mi sono laureata in Scienze Geologiche a Genova. Subito dopo la laurea ho iniziato a lavorare come libera professionista eseguendo relazioni geologiche sul territorio ligure. Successivamente ho iniziato campionamenti di matrici ambientali, quindi acque e terre e rocce da scavo, lungo le tratte ferroviarie, quindi su nuove infrastrutture e lungo i corsi d'acqua adiacenti a centrali nucleari. Attualmente lavoro invece al Tarso Valico dove eseguo in galleria campionamenti di rocce potenzialmente contenenti amianto ed eseguo analisi di ammassi rocciosi per stabilire la qualità e lo stato delle rocce. Mi è stato utile studiare a Genova in quanto mi ha permesso di conoscere perfettamente il territorio su cui lavoro ogni giorno e su cui eseguo relazioni e studi ambientali. Sono Martina, mi sono laureata in Scienze Geologiche nel 2017 con una tesi sulla didattica delle Scienze della Terra. Infatti la didattica è sempre stata la mia passione assieme alla divulgazione scientifica e dal mio ultimo anno di laurea magistrale lavoro presso l'Associazione Didattica Museale qui al Museo d'Oria e attualmente sono anche un insegnante, insegno presso due centri per la formazione professionale qui a Genova. Sono Luca, laureato magistrale in Geologia. L'esperienza a Genova mi ha permesso di coltivare il mio interesse per la scienza. Durante il corso di studi ho viaggiato a Ibra in Oman per partecipare alle perforazioni in crosta oceanica dell'Oman Drilling Project. Durante lo sviluppo della tesi ho avuto la possibilità di utilizzare il laboratorio all'avanguardia a Utrecht in Olanda. Adesso lavoro come dottorando all'Università di Genova realizzando il mio sogno di contribuire all'avanzamento scientifico.